Grazie. Grazie a questo spostamento nell'ordine dei lavori che mi consentirà di prendere parte ad un'altra celebrazione accademica di un amico che lascia i ruoli dell'insegnamento attivo. Mi voglio immediatamente collegare a quanto abbiamo appena ascoltato al professor Tomassini per un ricordo personale perché esattamente 30 anni fa su Drua dell'informatica e delle telecomunicazioni ho pubblicato un articolo che si intitolava La responsabilità civile per l'utilizzo dei sistemi esperti. Quindi questo mio interesse per l'intelligenza artificiale e per lo studio del diritto privato applicato agli allora iniziali studi che appunto Tomassini ricordava però questa mia propensione è stata interrotta dal mio maestro che ora poi domani ascolteremo il professor Perlingeri che ci dirà che mi disse No, il civilista si forma sui temi tradizionali e la novità non insegue la novità a cui comunque è richiesto di applicare i concetti, le categorie che la tradizione gli hanno consegnato. Quindi diciamo questo mio studio è rimasto interrotto, infatti sconosciuto, ora grazie alla cortesia di Giorgio Resta verrà ripubblicato sulla low review della nostra facoltà che appunto pubblichiamo in lingue diverse da quelle italiane. E diciamo ho ricordato questa vicenda diciamo a parte perché è sempre come dire diciamo un'occasione per collegare quello che si fa all'insegnamento dei nostri maestri con ciò che abbiamo ricevuto per dirvi che in un certo senso la mia relazione che da sola forse tematicamente meriterebbe un intero convegno sposterà la prospettiva di osservazione che abbiamo sinora ascoltato perché in un certo senso mi porrò da una prospettiva di tipo individualistico nel quale normalmente il diritto privato ci pone ad una prospettiva di tipo meta individuale. E a me sembra che il punto più interessante sul piano dell'analisi riguardi proprio il caso in cui sia evocata in questo senso appunto il trattamento algoritmico quindi le istruzioni procedimentali per risolvere un problema diciamo offrono materia di riflessione o stato regolatore in tutti quei casi in cui si tratta di elaborare, utilizzare dati diciamo disponibili o dati comunque lecitamente trattati. Quindi non mi occuperò evidentemente del tema che peraltro è stato affrontato dei presupposti del trattamento lecito. Mi porrò invece un problema tipicamente regolatorio cioè di capire se in che misura ed è qui il tema della discontinuità qualitativa che in un certo senso i big data ci pongono se esistano problemi regolatori in relazione al trattamento dei dati, al trattamento algoritmico dei dati e quali siano. Ora anche qui dico subito che innanzitutto contravvengo ad una mia radicata, un mio radicato convincimento il mio radicato convincimento è che metodologicamente non ha senso parlare di autorità indipendenti in realtà le autorità indipendenti a parte quelle che si occupano della tutela dei diritti civili come quella della privacy però hanno storie molto diverse, si occupano di mercati diversi quindi in ogni caso sarebbe utile fare un discorso analitico che evidentemente la resistenza fisica sia di chi parla sia di chi ascolta non consente. Farò quindi dei discorsi generici, procederò anche per esemplificazioni, di questo mi scuso ma diciamo provo a mappare il territorio più che affrontarlo in maniera diciamo analitica e in verticale. Ecco come vedete il tema della regolazione indipendente del mercato mi pare sia concettualmente articolabili in due sotto insiemi che però come vedremo hanno dei punti di contatto molto rilevanti sia sul piano teorico sia sul piano della disciplina cioè da un lato ci si può porre l'interrogativo se e in che misura si ponga un problema di regolazione indipendente di vigilanza sull'uso degli algoritmi e questo è idealmente il primo dei temi su cui vi proporrò alcune riflessioni il secondo tema invece è l'utilizzo degli algoritmi come strumento di vigilanza cioè sia in che misura gli algoritmi possono essere utilizzati dalla autorità indipendenti per svolgere un'attività di vigilanza. Ora tutto questo avverrà in un tempo molto ragionevole proverò a procedere in maniera molto schematica. Primo tema gli algoritmi oggetto della vigilanza ora sappiamo che in termini teorici la giustificazione delle autorità indipendenti consiste nel fatto che esista un fallimento di mercato e che questo fallimento di mercato non può essere governato ora anche qui dico in maniera un pochino esemplificativa attraverso regole imperative e invece necessiti il rinvio ad una regolazione tecnica che deve essere affidato sia a corpi burocratici ma a corpi burocratici anche per regole di natura comunitaria indipendenti e autonome rispetto alla burocrazia sotto il controllo del governo. Ecco vi propongo solo tre esempi. Ora ce ne potrebbero essere molti altri anche il professor Tomasini in fondo ne evocava altri. chiaramente il tema che questi tre esempi sottengono che attengono alle regole del mercato finanziario al caso degli algoritmi predittivi e al modo nel quale i big data e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che ridefinisce il concetto stesso del mercato in un certo senso rinviano a quello che potremmo definire legality by design cioè a quell'intervento che le autorità indipendenti possono attuare o debbono attuare in una fase diciamo di progettazione dell'algoritmo o di utilizzo dell'algoritmo stesso. Vi propongo tre rapidi esempi. Vedete questo qui è l'indice Dow Jones nel famoso lunedì nero del 1987. una delle cause del lunedì nero in cui l'indice borsa subì la più importante perdita dopo il martedì nero del 29 è legata al fatto che si iniziavano a utilizzare sistemi informatici che diciamo davano ordini di vendita in automatico quando i titoli subivano una flessione predeterminata. Vedete questo è un tipico caso di diciamo che giustifica una regolazione indipendente nel caso specifico il soggetto deputato è evidentemente la Consob la Consob nel 2011 è intervenuta non su casi che riguardano il trattamento algoritmico dei dati però è intervenuta con riguardo alla disciplina delle vendite allo scoperto perché evidentemente le vendite allo scoperto che sono modalità tipiche di copertura rispetto alle operazioni finanziarie generavano squilibri di tipo macroeconomico. Quindi diciamo questo esempio è il primo che riguarda e forse anche il più agevole tra quelli che vi propongo. Il secondo esempio invece è il caso degli algoritmi predittivi. Ora sicuramente quando parliamo degli algoritmi predittivi pensiamo appunto a sistemi informatici o a sistemi esperti che debbano ad esempio emettere sentenze però il problema è molto più rilevante e forse più elementare e ha un impatto sociale molto più significativo perché ci sono ad esempio molti intermediari finanziari in particolare all'estero ma il prodotto oggi è come dire diffuso inizia a essere diffuso anche in Italia che operano nei call center la segmentazione della clientela incrociando i dati dei soggetti che pagano con regolarità. Quindi sostanzialmente si crea una selezione dei clienti attraverso diciamo incrociando appunto il dato della loro regolarità e correttezza nei pagamenti. Vedete nell'esperienza americana si è discusso molto il caso Compass che riguarda un algoritmo predittivo nell'iterazione dei crimini e diciamo un sistema che peraltro ha dimostrato una scarsa capacità predittiva a dimostrazione del fatto che la predittività è sempre frutto talora anche dei pregiudizi delle esperienze o dell'impostazione a monte di chi le programma ma il caso dell'algoritmo predittivo utilizzato nei call center pone un problema teorico diciamo non banale anche qui mi scusete provo a esemplificarlo in maniera assolutamente elementare perché evidentemente si tratta di meccanismi che come dire spingono sempre più in basso gli svantaggiati e non consentono loro di avere nuove opportunità. Allora ecco che come dire si dischiude un duplice modello teorico di fronte a noi uno che potremmo dire quello alla Nozick sentivo la professoressa Perlingeri che citava l'idea di una privatizzazione delle infrastrutture sociali di relazione e in fondo diciamo così se noi guardiamo proprio all'esperienza americana anche al dibattito teorico che ha accompagnato l'intuizione che è appunto dell'iperliberismo collegato al libro di Nozick le cosiddette private cities, le città private in cui tutto è disciplinato al diritto privato dimostrano in fondo che il diritto privato è molto più autoritario del diritto pubblico e da molto meno spazi e evidentemente l'altra prospettiva teorica rispetto al modo nel quale affrontiamo questo tipo di problematiche è quello di diciamo potremmo dire semplificamente Foucaultiano cioè dell'idea che siano necessari rimedi di tipo pubblicistico anche all'interno delle infrastrutture privatistiche ecco ad esempio un esempio che si utilizza molto frequentemente sono le regole della parità di accesso ad esempio le regole che anche in Italia consentono alle donne o meglio pardon la GAF al sesso meno rappresentato che però sono sempre le donne di accedere in una misura ai bordo vedete si tratta di due prospettive teoriche molto diverse che gli algoritmi predittivi ci pongono e che autorizzano un problema di tipo che riguarda l'intervento delle autorità in regolazione il terzo esempio che volevo proporvi riguarda diciamo naturalmente si tratta di un tema molto esteso quindi anche in questo caso procedo veramente con qualche esempio e con qualche spunto di riflessione più ampio riguarda non solo come si modifica il mercato ma riguarda più specificamente il tema se in che misura il modo nel quale in particolare il diritto antitrust ma non solo il diritto antitrust ha utilizzato e rappresentato i comportamenti illeciti nel mercato possano funzionare allora qual è il caso a cui faccio riferimento il caso a cui faccio riferimento è che si utilizzino come tuttora si utilizzano algoritmi per segmentare e personalizzare le offerte dei beni quindi sostanzialmente rispetto ad una teorica del mercato costruita sulla volontà individuale qui vediamo l'intervento di macchine che non solo individuano qual è la quantità di offerta che sul mercato è opportuna per esempio che quando si vende sul mercato borsistico tutte le operazioni di vendita al prezzo corrente per non far scendere il prezzo di borsa avvengono sostanzialmente con queste tecniche ma anche il problema della segmentazione della personalizzazione dell'offerta quindi il caso banalissimo in cui io voglio utilizzare una piattaforma per individuare qual è il diciamo un albergo che possa essere confacente al mio interesse in questo caso c'è un algoritmo che non solo preconosce ripeto utilizzando dati assolutamente pubblici o anche utilizzando dati che si riferiscono a me ma che sono trattati lecitamente perché ripeto questo è il presupposto del mio ragionamento e che quindi in questo senso opera una segmentazione del mercato e poi conclude e come dire favorisce l'incontro della domanda e l'offerta allora vedete c'è un primo problema che riguarda l'idea di un mercato che si realizza attraverso diciamo offerte che sono predeterminate attraverso algoritmi c'è però un problema più ampio di cui gli studiosi di diritto antitrust oggi su cui riflettono che riguarda il fatto che l'utilizzo di big data l'utilizzo delle piattaforme attraverso i big data sostanzialmente sono utilizzate ha messo in discussione o comunque ha imposto di ripensare alcuni concetti fondamentali quali ad esempio la posizione dominante perché perché molto frequentemente ciò che io realizzo non è strettamente collegato al al singolo contratto attraverso il quale io entro diciamo in una relazione contrattuale con il consumatore perché molti diciamo di questi contratti pensiamo banalmente al caso più semplice al caso dell'utilizzo di whatsapp sono totalmente gratuiti ciò che io sto facendo però è una scusate sono andato avanti ciò che io sto facendo invece è sostanzialmente l'acquisizione di un potere che si realizza su mercati laterali quindi per concludere sotto questo primo punto è evidente che il caso se noi appunto abbandoniamo la logica individualistica guardiamo in una prospettiva meta individuale il modo nel quale questi algoritmi incidono e incideranno sempre di più sul funzionamento dei mercati è evidente che sicuramente questa sarà una materia che profondamente riguarderà le autorità indipendenti perché evidentemente qui siamo di fronte a strumenti che modificano il funzionamento del mercato talora in maniera molto profonda come il caso della riflessione ad esempio che i big data suscitano nel settore antitrust evidentemente solo la regolazione indipendente è in grado di identificare quello che dicevo essere una legality by design l'individuazione dei presupposti per un utilizzo non distorsivo di questi algoritmi secondo tema su cui ritengo ma più scientificamente di attirare l'attenzione invece riguarda il modo nel quale le autorità indipendenti utilizzano gli algoritmi in funzione di regolazione e quindi in funzione di vigilanza ora stiamo parlando innanzitutto di un fenomeno che già si realizza pienamente ecco il caso degli abusi di mercato è un caso emblematico perché oggi l'individuazione delle operazioni diciamo insider avviene tipicamente incrociando dati che riguardano le singole operazioni del giorno e riguardano le anomalie rispetto alle operazioni compiute dal singolo soggetto ora per essere molto per semplificare il caso quando si svolge un'operazione quando diciamo si individua un'operazione insider ciò che si fa in prima battuta ma questo è possibile attraverso il trattamento algoritmico si vede che size che quantità è stata comprata dal singolo investitore e si verifica se quel soggetto normalmente svolgeva acquisti di questo tipo ora perché il il punto a me sembra molto interessante innanzitutto perché nella realtà gli illeciti insider trading sono illeciti che vengono sempre sanzionati innanzitutto la giustizia attraverso sanzioni amministrative erogate alla Consul poi da loro anche attraverso procedimenti penali ma vengono sanzionati in mancanza di una prova espressa dell'effettiva comunicazione dell'informazione cioè normalmente tutti i procedimenti sanzionatori poi in sede di impugnazione si discute sempre del valore delle presunzioni che assistono e che consentono di dire che certo se ti vedi tutti i giorni o se sei andato alla festa del banchiere tizio e poi il giorno dopo hai fatto gli acquisti è molto probabile che magari in quell'occasione avete anche parlato di una qualche operazione che sarebbe realizzata quindi vedete il caso degli abusi di mercato è un caso emblematico l'utilizzo dell'algoritmo serve a identificare con estrema precisione i soggetti e soprattutto a confrontare i comportamenti di quel soggetto un altro caso su cui il trattamento algoritmico diciamo ha un ruolo molto significativo riguarda il caso delle intese antitrust perché il trattamento algoritmico in questo caso è il modo più talora facile e forse efficiente o comunque di monitorare l'andamento dei prezzi specie quando ci sono soggetti di mercato che tra loro non hanno rapporti e tuttavia attuano comportamenti convergenti cioè mentre come dire è un caso classico in scuola l'ipotesi da cui nasce lo Sherman Act degli imprenditori che si incontrano al club e si mettono d'accordo su quanto far pagare i prezzi e i biglietti e i treni oggi ci sono modalità di illeciti antitrust molto più sofisticati che avvengono attraverso centri di collegamento neutrali e quindi è evidente che rispetto a queste modalità il trattamento algoritmico è un modo in un certo senso per diciamo individuare anche questo tipo di comportamenti segnalo diciamo ma aprendo idealmente una parentesi che l'utilizzo degli algoritmi sta cambiando anche profondamente forse più banalmente rispetto ai discorsi che stiamo facendo anche il sistema di vigilanza monitoraggio delle imprese cioè perché evidentemente consente una capacità di raccolta di dati e di utilizzo dei dati verso gli organi di vigilanza e grandi imprese che nel passato erano affidati solo a segnali di allarme allora a questo punto quali sono le tutele giurisdizionali già nella relazione introduttiva avete diciamo ascoltato il riferimento alla giurisprudenza amministrativa che si è già pronunciata su questo ecco io credo ora non entro nel dettaglio del regolamento generale sulla protezione dei dati personali anche qui che meriterebbe un'analisi molto dettagliata che forse e che consente come ha fatto peraltro Giorgio Oreste in un bel saggio anche analisi comparatistiche di grande interesse in particolare con riguardo all'esperienza francese però io riterrei dovendo sintetizzare il problema che ci sono due problemi fondamentali in questo caso e ci dice proprio il regolamento generale per la protezione dei dati personali che qui è irrilevante se il potere il soggetto che utilizza l'algoritmo in questi casi è espressione di un potere privato scusate di un potere pubblico di un potere privato perché il ragionamento poi in ultima analisi non dovrebbe essere differente il primo punto riguarda la conoscenza ex ante cioè la necessità che questi strumenti di vigilanza diciamo così del mercato per esprimerci genericamente attraverso il trattamento algoritmico siano conosciuti ex ante e conoscibili ex ante come sapete il tema non è banale anche perché si collega al rapporto con le tutele intellettuali come negli Stati Uniti il problema si è posto con riguardo all'algoritmo che consentiva il voto elettronico e in questo caso al diritto di accesso e di conoscenza è stato opposto invece il trade secret del soggetto detentore a privativa industriale però a me sembra che sicuramente una corretta regolazione del mercato debba implicare che questi dati questi modelli di conoscenza e di interpretazione del reale attraverso gli algoritmi siano conosciuti ex ante evidentemente il problema successivo riguarda il rapporto col procedimento amministrativo perché tutte le autorità indipendenti operano attraverso procedimenti amministrativi e tutti questi procedimenti amministrativi sono poi in ultimo anche quando si discute di temi tipicamente privatistici devoluti e conosciuti devoluti e conosciuti dai giudici amministrativi ecco su questo punto che riguardava appunto l'utilizzo di un algoritmo per il piano straordinario di mobilità dei docenti a me sembra che forse la giustizia amministrativa abbia compiuto un eccesso di conservatorismo perché è chiaro che il procedimento amministrativo è legato alla motivazione e alla del singolo provvedimento ma secondo me questi principi dovranno necessariamente essere articolati e affinati perché se portati alle estreme conseguenze questo vorrebbe dire impedire in maniera radicale l'utilizzo del trattamento algoritmo con riguardo ad esempio a casi come quello che riguarda la modabilità straordinaria dei docenti in cui il margine di discrezionalità della pubblica amministrazione dovrebbe essere molto modesto e se posso dire mi fiderei più di un algoritmo che di qualcuno che diciamo sposta le pratiche da sopra a sotto quindi sicuramente su questi due temi la riflessione sarà tutt'altro e banale ripeto quanto dicevo sin dall'inizio e cioè quando noi discutiamo autorità indipendenti discutiamo di mercati interessi molto diversi quindi un discorso che ha caratteristiche di generalità come quello che sto prospettando naturalmente poi deve necessariamente essere analiticamente vagliato e controllato perché ripeto gli interessi sono molto diversi allora avendo abusato già della vostra diciamo pazienza e cortesia provo a raggiungere delle conclusioni che sono conclusioni evidentemente molto banali è chiaro che il tema si presta al confronto tra apocalittici e integrati è evidente però che i due poli estremi della dialettica e cioè il liberalismo tecnologico di quanti ritengono che la libertà individuale e l'autonomia nella regolazione degli interessi sia comunque sufficiente e viceversa una sorta di ludismo tecnocratico in base al quale chiaramente noi dobbiamo rifugire questi strumenti siano diciamo risposte totalmente inaccettabili o comunque poco praticabili e invece io vedo un grande spazio per la regolazione indipendente che evidentemente però dovrà avere un arco temporale di approfondimento ad esempio uno dei piani della nuova presidenza Comsov dovrebbe essere un grande investimento in tema di intelligenza artificiale perché ci sono ad esempio il caso dei mercati finanziari ma immagino ne avete già sentito parlare è uno di quelli che più si presta a questi modelli di disciplina con questo concluso ringrazio ancora molto la cortesia e l'attenzione grazie a tutti Grazie.